Natale è anche tempo di shopping. Sono queste infatti le settimane più calde per chi vuole perfezionare gli acquisti per i regali da fare o per rinnovare il proprio guardaroba invernale. Ma chi sperava nei negozi aperti di sera durante le feste rimarrà deluso. Sarà una sola la serata in cui gli esercizi commerciali resteranno aperti in città, quella del 23 dicembre. Questa la decisione presa dal Centro Commerciale Naturale Città di Lucca per evitare che le troppe aperture non disperdano l'attrattività dei negozi della città. Una sperimentazione che gli esercizi decideranno poi se ripetere o meno nei prossimi anni. Intanto entra nel vivo anche il periodo di appuntamenti ed eventi cittadini che in questa stagione quindi non saranno da traino alle vendite dei negozi. Poi dopo le feste sarà corsa agli sconti. A Lucca, come in Toscana e in tutta Italia, i ribassi infatti partiranno il prossimo 5 gennaio.